Professor Spaggiari, perché quando noi parliamo di unire le forze, noi dobbiamo contribuire a qualcosa di più grande di noi e cosa c'è del benessere, la salute, la prevenzione, prendersi a cuore delle persone, però come dico sempre ognuno ha la sua verità e che alla fine è giusto che ognuno di noi abbia la sua verità, le sue credenze, spesso però sappiamo che le credenze sono limitanti se noi poi non le mettiamo a disposizione anche per comprendere il prossimo, le altre persone, quindi dobbiamo assolutamente prima di tutto riuscire a unire i puntini, unire le forze e non coltivare i propri giardini. Quando parlo di informazione di prevenzione, ecco la sfida che poi mi ha animato a portare avanti un discorso così importante di questo progetto S-Drive perché quando l'ho conosciuto ho detto, beh, tutti parlano di prevenzione ma poi alla fine nessuno ha il quantum della situazione, di quello che si mangia, si beve, si respira, si pensa e non si nasce tutti uguali, non si vive, non si dorme, non si lavora nello stesso luogo e quindi ci sono tantissime cose a tenere in considerazione a partire dalla disfunzione mitocondriale, l'infiammazione silente, se ne parla pochissimo e la concausa epigenetica di cui parlavamo poco fa. Quindi questo è un po' quello che accade e quello che accade è questo contenitore dove pian piano arrivano tutti i contaminanti. Pensate che questo, pensate alla nostra, quando si nasce che siamo magari un contenitore vuoto e poi lo riempiamo continuamente di sostanze chimiche. I ritmi circadiani ce ne stiamo dimenticando, la luce, il sole, l'aria pulita. Non viviamo più in un ambiente come 100, 200, 300 anni fa. Il problema qual è? Che noi mangiamo per produrre idrogeno, non respiriamo per avere l'ossigeno e ce ne dimentichiamo. Probabilmente anche a livello fisiologico, fisiopatologico questo viene sottovalutato. Si va a vedere qualsiasi altra possibilità di azione anche terapeutica o di supporto, ma non si tiene in considerazione l'apporto di ossigeno, il consumo di ossigeno e l'apporto di micronutrienti, perché anche la biodisponibilità, l'assimilazione di questi nutrienti è importante e la sicurezza di assumerli per produrre energia che è quella molecola straordinaria per la nostra vita. Da qui purtroppo l'ossigeno è diventato la cenerentola di nutrizionisti, perché l'ossigeno lo prendiamo o ce lo danno solo quando siamo in fin di vita, eppure è l'elemento vitale, indispensabile per la vita. Proviamo, facciamo sempre degli esercizi meravigliosi durante i seminari, chiedo sempre di chiudere naso e bocca per dieci minuti e vediamo se ci riusciamo. Pronti? Cosa significa? Che noi possiamo rimanere quanto senza respirare? Pochissimo, pochi minuti, ma forse uno o due minuti per alcuni, allenati anche tre, per quelli che fanno apnea. Sapete benissimo che possiamo rimanere giorni senza mangiare e qualche giorno senza bere e riusciamo a vivere, ma senza respirare non c'è assolutamente possibilità di vivere. Quindi ecco che l'ossigeno e la conoscenza di quelli che sono gli indicatori epigenetici, che significano i fattori di interferenza, è fondamentale oggi conoscerli, perché altrimenti arriviamo sempre quando è troppo tardi. Pensate, le informazioni epigenetiche permettono la comunicazione attraverso la vibrazione e la risonanza. Poi ce ne parlerà il professor Spaggiari quanto la vibrazione e la risonanza non siano fondamentali per il funzionamento delle nostre cellule, della nostra vita. Quindi conoscere quelli che sono coerenti, i fattori che sono coerenti con la nostra vita è fondamentale. Possiamo consigliare di scegliere la strada migliore, ma cercamente oggi non possiamo chiedere alle persone di cambiare città, anche se ce ne sarebbe una grande voglia, cambiare lavoro. Fortunati quello che ce l'hanno il lavoro e poi ancora luoghi proprio di vita. Sappiamo quanto sia fondamentale l'alimentazione. Grazie a nutrizionisti capaci, competenti, possiamo veramente intervenire in maniera opportuna anche come modificazione epigenetica, perché il ruolo epigenetica dell'alimentazione è fondamentale. Ahimè, chiedo sempre, quando è l'ultima volta avete sentito parlare di inquinamento? Sapete cosa c'è? Che noi le sentiamo parlare, ma ormai abbiamo imparato a chiudere naso, bocca e occhi e andiamo avanti lo stesso. E questo è gravissimo. Pensate che questo sia un grosso problema da risolvere? Chiedo, cosa fate oggi per risolvere questo problema? E quali soluzioni? E se ci fosse la soluzione? Allora, è proprio qui il fulcro che noi queste domande non ce le facciamo e probabilmente non le rivolgiamo neanche al paziente. Questo è il grosso problema. Gli ultimi dati del Ministero dicono che 4 su 10 si muoviono di infarto, ictus e altre malattie. Sono vere e proprie pandemie. Io quando vedo che parlano di pandemia, dico ma di queste pandemie non ne parliamo più. Neurodegenerazione, atelosclerosi, metaboliche, tumori e della rimettilazione del DNA. Adesso c'è qualcuno che scrive, vabbè, la rimettilazione del DNA. Il fatto che comunque bisognerebbe assolutamente intervenire lavorando anche sui fattori di carenze nutrizionali come il gruppo di vitaminico B, l'acidofori, i folati, la metionina e anche questo. Come facciamo? Quanti esami dovremmo fare per capire quali sono veramente le carenze legate a questi fattori. Le difese immunitarie sappiamo importantissimo in questo momento quanto siano fondamentali alzare le difese immunitarie, però dobbiamo contrastare l'infiammazione, contrastare veramente questo killer segreto silenzioso che è poi responsabile delle varie cardiopatie, tumori, alzami, patologie. Parlare di reali rischi congeniti. Beh, già nel 2001 si parlava sul Times, nella pagina e copertina del Times, attenzione a tutte le scelte che fai prima del concepimento e poi in gravidanza perché condizioneranno le future generazioni. Ecco perché, come si diceva prima, andrà proprio il discorso epigenetico della regalazione di questi meccanismi fondamentali della vita dove però, come vedete, siamo nel ciclo di cosa? Delle malattie. Siamo veramente una continuazione progressiva della nostra vita. E queste le programmazioni, come ci insegna il professor Burgio, da sempre tutte le malattie vengono programmate a livello fetale. Cosa stiamo facendo per la salute dei prima, della salute dei genitori prima del concepimento? Ben poco. Interveniamo sempre quando è troppo tardi. Pensate al progetto dei mille giorni. Se prevenire è meglio che curare. Noi dobbiamo fare prevenzione prima del concepimento salute delle cellule sane per differenziazione sana e poi future generazioni sane. Quindi proteggere la vita dove però, purtroppo, l'esposizione chimica ambientale influenza il metabolismo. Allora, ecco perché oggi vogliamo presentare come intervenire, dove, se è vero che tutti questi fattori interferiscono la nostra salute, cosa stiamo facendo oggi per evitare che tutta questa interferenza sia sempre più limitata da un'attenzione, da un prendersi veramente a cuore, a cura della salute delle persone attraverso un'informazione corretta di quanto l'inquinamento abbia un impatto fondamentale sulla nostra vita. Anche attraverso una ricerca di un equilibrio nutrizionale ottimale. Quindi conoscere questo meccanismo di apporto di ossigeno ottimale nutrienti è fondamentale perché poi alla fine, scusate qui c'è una ripetizione, perché dobbiamo assolutamente proteggere la rimetilazione in una maniera corretta. Ora, se è vero che la salute parte dalla salute delle nostre cellule e noi siamo 100.000 miliardi di cellule, noi dobbiamo partire da questi dati. Pensate che ci sono 500.000 morti premature in Europa e l'Italia è al primo posto. Questi bambini non li abbiamo fatti neanche nascere per colpa dell'inquinamento. Dobbiamo un po' mettere insieme i pezzi dove, vedete, l'Aerce ce lo dice, nella comparsa dei tumori conta anche l'epigenetica. Ma bisogna arrivare ai tumori o possiamo anche pensare a un'infiammazione, a un cardiovascolare, a un diabete, a una stanchezza cronica, alla fibromialgia? Dobbiamo mica arrivare ai tumori, no? Cerchiamo di fare qualcosa prima. Quindi pensate che le mutazioni sono trasmissibili fino alla terza generazione. 467.000 morti l'anno in Europa per inquinamento, dove compriamo pubblicità e viviamo in un mondo malato. Questo è un documento ufficiale del Senato della Repubblica dove ci dice che ci sono gli effetti dell'inquiramento ambientale sull'incidenza dei tumori, malformazioni fetone natale e epigenetica. E non ne vogliamo sapere. Guardate, si sottolinea che la lettura scientifica ha evidenziato che l'esposizione per natale a inquiranti chimici altera l'epigenetica e l'embro fetale con potenziali conseguenze negativi a carico dello sviluppo e manifestazioni di malattie dell'infanzia nel corso della vita e attraverso trasmissioni transgenerazionali. Allora quando mi chiedono, ma allora S-Drive cosa serve? S-Drive serve proprio a questo. Serve a avere un quadro ottimale, migliore nei confronti della vera prevenzione. Dove conosciamo già, guardate, che ci sono ormai 371.000 casi di nuovi casi di tumore maligno nel 2019, dove le concause sono dall'esposizione sostanze tossiche, stile di vita, alterazioni genetiche, infezioni, dieta, sovrappeso. E guardate qui, gli agenti chimici, la formaldeide, il benzene, l'alluminio, il cromo, il nickel. Come facciamo a conoscere tutte queste sostanze? Spesso pensiamo solo alle dieta, alla nutrizione fondamentale. Ma cosa mangi, cosa bevi, cosa respiri, dove vivi? 140.000 sostanze chimiche, il glifosato, qualcosa di veramente contaminazione ambientale che dicono, ah, lo toglieremo tra qualche anno. Ma di cosa stiamo parlando? Basta pensare che devono chiudere le scuole nel Trentino Aldo, quando passano a disinfettare tutti i campi di le coltivazioni di mele e anche di prosecco, come sappiamo. Basta pensare cosa hanno trovato nel prosecco. Quindi, cosa stiamo facendo per parlare alle nostre future generazioni di queste cose? Cosa stiamo facendo? Non ne vedo più in televisione, questi sono veramente gli ultimi programmi, no? A mezzanotte, a luna di notte, qualcosina. Ma perché non ponete questo problema nei telegiornali, nelle radio, nelle televisioni, dove poi ti fanno passare il 5G come la tecnologia del futuro, indispensabile, e sappiamo che non ne possiamo fare a meno di tecnologia. Ma cosa stiamo facendo per limitare i danni? Guardate cosa accade nel cervello del bambino, eppure a 5 anni, 10 anni, a un adulto, eppure continuiamo a regalare cellulari, tecnologia, soprattutto nei primi anni di vita. Dovrebbe essere vietato, come ci insegna il professor Fiorenzo Marinelli, fino ai 12-14 anni vietato il cellulare, perché dovrebbe essere usato solo in emergenza, come dice lui, è dannosissimo. Tenerlo vicino è dannosissimo, ecco perché stiamo lavorando, e questo ve l'annuncio, a un progetto importante con Massimo Fulgini, con dei device che sono stati studiati, che stanno limitando ovviamente i danni, per metterli su cellulari, computer, router, perché è fondamentale proteggere i danni da queste interferenze che noi non vediamo, poi se ne parlerà magari anche nelle varie relazioni, aumento dell'autismo. Quindi ecco perché poi, come si diceva poco fa Alessandra, noi blocchiamo lo sfrutturamento del DNA, e quindi a livello del rimodellamento della cromatina, probabilmente è lì che iniziano le malattie, proprio perché le sostanze tossiche bloccano lo sfrutturamento e intelesferiscono il regolare processo di duplicazione e riparazione a livello delle nostre cellule, e poi sentiremo quanto sia importante la membrana cellulare per prevenire l'infiammazione, la lipidomica dalla cellula. Allora sì, tutte queste cose le conoscete molto bene, ma possiamo prescrivere di fare tutte queste analisi ai nostri pazienti, quanto dovrebbero spendere. Poi a volte voi gli prescrivete un esame, basta pensare al semplice omocisteina, e dall'altra parte il medico di base che dice no, non è prevista, e quindi per farlo fare bisogna pregarlo in ginocchio, perché tutte le analisi, come sapete, vanno motivate. Cosa stiamo facendo oggi quando prescriviamo un'analisi? Prescrivo questa analisi per escludere, per escludere, per escludere, per escludere. Si prescrivono degli esami per escludere magari che ci sia un diabete, che ci sia un problema cardiovascolare, che ci sia un vario danno a livello della cellula. Noi dobbiamo anche però fare i conti sul fatto di avere una visione a 360 gradi di tutte quelle che sono le possibili concause, e qui ne vedete alcune. Se continuiamo a fare quello che abbiamo, abbiamo sempre fatto, rischiamo di restare dove siamo, ma a qualcuno piace rimanere sulla ruota dei cricetti. Io penso che oggi dobbiamo assolutamente diventare più che intelligenti, saggi, cominciare a evitare i problemi, e quindi trasmettere una medicina basata, personalizzata, predittiva, preventiva, partecipativa, dove dobbiamo, secondo me, non sottovalutare il fatto che le persone si abituano a vivere al di sotto del loro potenziale. Sta diventando un'abitudine, dove ottimizzare significa modificare la dieta, la nutrizione, lo stile di vita, il movimento opportuno, l'attività, il fatto dello stress, la gestione dello stress, che pensate in questo momento come siamo messi. Quindi la fisiologia e la fisiopatologia. E ricordarsi che solo il 2% è DNA, il 98% è epigenetica, quindi tutto quello di cui noi stiamo parlando è di epigenetica, è il 98% della nostra vita. E quindi questi segnali che possono veramente interferire con la nostra salute. Allora, questi sono gli indicatori che condizionano la nostra salute. Noi oggi abbiamo questa grande possibilità. Già conoscete il bulbo del capello, ormai i capelli vengono utilizzati per mappare le persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, se vivono in un luogo contaminato, pensate nei laboratori, se sono sottoposte a sostanze chimiche, viene utilizzato comunque per valutare la presenza di metalli pesanti. È un'antenna del nostro mesenchimo, del nostro tessuto connettivo, del micro e macro ambiente. La NASA lo utilizza per la salute degli astronauti, per esempio. Addirittura viene utilizzato come biomarker straordinario di disturbi psichiatrici. E quindi è un archivio proprio di tutte queste sostanze, quello che accade nel micro e macro ambiente del nostro organismo. E archivia anche le tossine pericolose. Oggi, grazie a S-Drive, noi possiamo avere la visione di quelle che sono le interferenze per la salute delle persone. Questo S-Drive, pensate che noi mettiamo 4-5 bulbi, quindi i capelli, al centro di questa bobina, e questa tecnologia straordinaria, tecnologia russa e tedesca, che lavora generando uno spettro di frequenze, se ce ne parlerà il professor Spaggiari, è in grado di mappare proprio le frequenze da un punto di vista biofisico e regalarci poi un report specifico di un'onda caratteristica di quella persona. E conoscere, pensate, oltre 800 marcatori chiave che potrebbero interferire sulla salute della persona. Qua si parla di frequenze, alcuni dicono, ah, le frequenze. Beh, il nostro cervello, i nostri pensieri, sono onde, sono frequenze, è biofisica. Noi vediamo, pensate a come riusciamo a, a come funziona il nostro occhio, come funziona il nostro dito, come funziona quando vogliamo fare un esame specifico, l'elettrocardiogramma, l'encefalogramma, ne parlerà risonanza magnetica, ne parlerà il professor Spaggiari. E vi voglio anche dire questo. Vedete questa fotografia? Questa è una foto del sito, presa sul sito della NASA, che ci dimostra che noi siamo dentro un grande condensatore, dove all'interno di questo condensatore c'è una frequenza specifica che ci dà la vita e si chiama risonanza di Schumann. Andate dentro al sito della NASA, scrivete onde di Schumann e vi apparirà quella fotografia. Attraverso questo report, noi, pensate, in soli 12 minuti, abbiamo una chiara informazione sul fatto che dove intervenire, quali priorità ha bisogno quella persona di intervenire magari sull'impatto ambientale, sul sistema gastrointestinale, sull'infiammazione a livello di lipidomica di quella cellula. Dobbiamo evitare dei cibi, non è un test di intolleranze alimentari o allergie, mi raccomando, è un test di incompatibilità con alcuni cibi. e poi avere dei report dal sistema immunitario alla rigenerazione delle cellule, al report per ottimizzare la performance negli sportivi e avere chiaro quali sono i nutrienti, quali sono i cibi, gli additivi che dobbiamo evitare o introdurre, quali sono le sostanze chimiche, tossine e radiazioni, l'indicatore di resistenza a batteri, funghi, muffe, virus. Ecco, quanti esami dovremmo fare per avere tutte queste informazioni? La clinica è importante se abbiamo un quadro tra quello che ci dice il paziente e quello che pensiamo noi, ma quello che ha bisogno il paziente. Ecco, questo test test drive ci permette di conoscere quello che il paziente ha bisogno. Altrimenti quanti esami dovremmo fare per capire magari se la persona dorme tutta la notte con il wifi acceso, se ha il cellulare sotto il cuscino e magari sta subendo dei danni importanti. Quindi avere un piano nutrizionale di 90 giorni che ci permette di rigenerare proteine, cellule e tessuti. Quindi migliorare la qualità della vita della persona, rafforzare il suo sistema immunitario. è una sorta di navigatore GPS perché se poi voi riuscite a fare questo test ogni 90 giorni naturalmente guidate la persona a prendersi a cura di sé e fare vera prevenzione. Questi sono tutti i vari report, le pagine del report vitamine, minerali, aminoacidi, sistema antioxidante l'interferenza ai campi elettromagnetici, sistema gastrointestinale, abbiamo la pagina sul sistema immunitario, la pagina sistema gastrointestinale, sistema cardiocircolatorio. L'FDA naturalmente è stata interpellata e ha detto che noi attraverso questo che si sono tutti certificati possiamo intervenire proprio per promuovere la buona salute, promuovere l'occasione e motivare e incoraggiare per piacere e attenzione al vostro audio e possiamo assolutamente intervenire per migliorare la qualità della vita dei pazienti, quindi motivare, incoraggiare, sostenere il raggiungimento degli obiettivi di salute e benessere. Penso che è quello che ci accomuna a tutti proprio prendersi a cuore dalla salute delle persone, quindi accettare questa sfida e viene utilizzata la medicina integrata alle riproduzioni anche proprio per proteggere le donne in gravidanza, prima dalla gravidanza e attraverso questa grande unione, questa orchestra di persone che però sanno anche suonare gli strumenti nella maniera giusta, altrimenti pensate, è tutto in sinergia. questa è l'email per qualcuno che magari vuole approfondire epinutracerchioce alla gmail.com in benessere dipende da noi ricordiamoci che ci saranno sempre dei passi sul tuo cammino dipende da te se farne dei muri o dei ponti a me piace costruire ponti unire le forze e lavorare col cuore con la passione trasmettere quanto sia fondamentale prendersi a cuore la salute della persona a cominciare da noi stessi dal nostro comitato scientifico dai vari professionisti grande professor Spaggiari medico e fisico ed ecco perché sarà un grande piacere ascoltarlo dove dobbiamo continuare a amare la nostra vita perché la vita è urgente e solo l'amore guarisce la vita ma è l'unico regalo che non riceveremo mai due volte quindi riappropriamoci anche dei valori fondamentali come il dire grazie e l'ascolto la riconoscenza la gratitudine la speranza per migliorare veramente questo mondo e noi ci complichiamo la vita anche perché ultimamente ce la stanno anche complicandola però non dobbiamo mai perdere la speranza perché solo l'amore guarisce la vita e la vita senza amore non ha senso ecco questa giornata vuole proprio questo di unire le forze e poter contribuire attraverso anche strumenti come S-Drive a migliorare la qualità della vita delle persone e vi ringrazio attraverso a migliorare